Buongiorno Ministro, appena terminato un giro qui al Salone Nautico di Genova che in questo momento è anche un simbolo di rinascita della città. A lei chiedo, i genovesi soprattutto attendono questo decreto, c'è in bozza, non è ancora entrato in vigore perché c'è ancora un nodo, mi sembra quello di autostrade. Autostrade parteciperà oppure no alla ricostruzione del ponte? Lo deciderà il commissario che condivideremo come governo, sindaco e regione Liguria, dovrà essere una persona onesta, competente, capace, veloce, fortunata perché qua c'è da fare bene e da fare in fretta e quindi preferiamo metterci un giorno in più ma scegliere là e le persone giuste. E' chiaro che Autostrade ha sbagliato, Autostrade dovrà pagare, dovrà chiedere scusa, dovrà fare 18 passi indietro, però sono felice che oggi su Genova per San Matteo ci sia il sole, che il Salone Nautico abbia più espositori e più visitatori dell'anno scorso. Approfitto di Skype per dire se qualcuno non ha ancora deciso cosa fare sabato e domenica venite, prendete il treno perché c'è una città stupenda. C'è un settore che dà lavoro a migliaia di italiani, sono prodotti incredibili, io non ho la barca e magari non ce la avrò mai nella vita, però sono delle cose stupende che noi esportiamo in tutto il mondo e poi c'è una città che ha bisogno di affetto, di presenza e di futuro. Detto questo il Governo ha fatto tutto il possibile, speriamo che altri non rallentino. Altri chi? Non so, Autostrade, che non ci siano ricorsi, cavigli, avvocati, qua c'è da pensare a quei 43 morti che hanno pagato il biglietto dell'autostrada per finire come sono finiti e quindi ognuno deve fare il suo, il Governo è a disposizione dei genovesi e conto l'anno prossimo di questi tempi di tornare al Salone e di vedere però in alto che Genova torna a correre. Però d'accordo con i timori di molti genovesi che in caso in cui Autostrade venga estremessa dal progetto ci siano molte probabilità di un ricorso e di conseguenza di allungamento dei tempi? Autostrade ha guadagnato miliardi di euro in questi anni, gestisce 3000 km di autostrade in Italia e se hanno un cuore, visto quello che è successo, penso che accoglieranno qualunque scelta il Governo e il Commissario facciano e continuano a fare il loro lavoro in altra maniera. Quando c'è di mezzo una tragedia come questa penso che andare per cavilli, contro cavilli, ricorsi contro ricorsi sia una follia. Detto questo è un Governo libero, quello di cui mi onoro di far parte, è libero quando si occupa di migrazione, di sicurezza, di manovra economica, di tasse, di banche, di pensioni e anche di concessioni autostradali. A proposito di tasse, l'IVA aumenta oppure no? No, gli italiani ci hanno votato per ridurle le tasse e non per aumentarle, senza bacchetta magica stiamo lavorando giorno e notte, stamattina ci siamo alzati all'alba a una manovra economica dove cominceremo a rispettare gli impegni presi, quindi segnare, poi se torno su Sky alla fine della manovra e non c'è quello che dicevo, mi chiedete conto. La legge Fornerola si inizia a smontare, quota 100, 62 anni, 3-400 mila italiani con il diritto alla pensione e quindi 3-400 mila giovani che possono cominciare a lavorare e qui taglia con il saldo e stralcio di milioni di cartelle. Facendo il conto sono parecchi miliardi però. Che poi entrano, perché uno mi dice ma se tu mandi in pensione 400 mila italiani ti costa perché gli paghi la pensione, vero, a parte il fatto che è un diritto perché hanno lavorato una vita, però non fanno il conto dei giovani che cominciano a lavorare, cominciano a pagare i loro contributi, cominciano avendo uno stipendio a fare un mutuo, a prendersi una casa in affitto e se torna a circolare il denaro, se torna a circolare il lavoro e la fiducia in Europa sorridono. Io faccio un appello ai commissari europei, ai banchieri centrali, a tutti gli organismi internazionali, abbiate fiducia e stiamo lavorando a un'Italia che cresce, non che spreca, che regala, a un'Italia che cresce. Se per far questo dovremmo aumentare il deficit dello 0,0,1,2, adesso non è un po' importante. Rispetteremo il famoso 3%, questo glielo posso dire. Va bene, grazie. Venite a Genova.